Il più alto numero di interventi per patologie endocrine sul territorio siciliano e la posizione strategica della città hanno reso Caltanissetta protagonista anche quest'anno del forum di endocrinochirurgia, chirurgia live, giunta la sua quarta edizione. Oltre a un centinaio i chirurghi siciliani e non solo, raccolta nella sala convegni dell'ospedale Sant'Elia per approfondire e ottimizzare le tecniche di chirurgia tiroidea, surrenalica e pancreatica. Presidenti del congresso Giovanni Ciaccio, direttore dell'unità operativa di chirurgia e Francesco Scaffidi Abbate, direttore dell'unità operativa semplice di endocrinologia dell'ospedale Sant'Elia. Sono chirurghi che hanno interesse sia la chirurgia regionale ma in particolare anche dell'endocrinochirurgia che sarà l'oggetto e l'argomento della giornata, quindi quest'anno tratteremo non soltanto di tiroide ma anche altre di ghiandre come surrene e pancreas. Sicuramente la parte che prende di più è la parte live, la chirurgia live è il forte di ogni incontro, di ogni anno che viene fatto qui a Caltanissetta. È una soddisfazione per me perché è un modo per poter applicare la tecnica e discuterla insieme ai colleghi che da tutta la Sicilia vengono per guardarci e per sviluppare ancora di più questa metodica e questa tecnica. Con i suoi 300 interventi ogni anno di chirurgia, la maggior parte sulla ghiandola tiroidea e le oltre 2.500 prestazioni ambulatoriali, l'unità di endocrinochirurgia oggi fiore all'occhiello della sanità nissena. Questo tipo di attività indica quella che è la politica che bisogna mettere in campo. Voi sapete che ci sono delle leggi di riordino che accorpano reparti, unità operative complesse, delle varie discipline e quindi vanno a concentrare l'attività in determinati luoghi della Sicilia raggiungibili per tutti. Quindi Caltanissetta è molto centrale. Noi dobbiamo andare a creare queste aree di iper specialità perché soltanto in questo modo noi riusciremo a dare alla nostra gente e alla gente delle zone limitrofe una prestazione ad alta specializzazione. E' finito il tempo delle prestazioni generiche, delle prestazioni di base. Queste vanno erogate, diffuse sul territorio e rese accessibili a tutte. Ma per le prestazioni specialistiche bisogna creare degli hub dove far convergere la gente e questo ne è un esempio.